Il messaggio dell'Arcivescovo di Milano Mi unisco al Cardinale Angelo Scola e ai fedeli Ambrosiani nell'esprimere la nostra sentita partecipazione al lutto dei familiari dell'intera comunità ebraica di Milano per la scomparsa del rabbino professor Giuseppe Vittorio Laras Protagonista della storia religiosa e civile della nostra città ha saputo conquistare la stima e l'apprezzamento di tutti per la sua autorevolezza morale e la sua parola lucida e profetica Ricordo con riconoscenza il suo generoso impegno per la promozione del dialogo e delle relazioni fraterne tra ebrei e cristiani cattolici I suoi incontri con i miei predecessori il Cardinale Carlo Maria Martini il Cardinale Dionigi Tettamanzi e il Cardinale Angelo Scola sono scolpiti nella memoria dei fedeli Ambrosiani come un esempio e uno stimolo a continuare questo cammino di amicizie di pace Elevo preghiere all'Altissimo ricco di amore e di fedeltà perché lo accolga nel suo regno di pace Mario Delpini, Arcivescovo di Milano Grazie a tutti